Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Tra Maorciano muore bambino di 10 anni per sospetta meningite fulminante ma l'azienda ospedaliera rassicura La protesta di una signora per i lavori mal eseguiti nel rio Crinaccio Le cipolle di Urbania sentenziano estate bella e meno pioggia nel 2015 Finale di partita amaro per l'arma Juventus che vede sfuggire la vittoria all'ultimo minuto Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia Allora, dopo la morte del piccolo Francesco all'ospedale di Fanno per un caso di probabilmente meningite fulminante questa mattina è stato fatto il punto della situazione durante una conferenza stampa I sanitari rassicurano che non ci sono rischi per la salute di coloro che sono venuti a stretto contatto con il bambino perché è partito subito, scattato un piano di profilassi antibiotica Vediamo il servizio di Simona Zonghetti Si svolgerà domani l'autopsia sul corpo di Francesco il bimbo morto ieri all'ospedale Santa Croce di Fano a stroncarlo alla sola età di 10 anni probabilmente una meningite fulminante causata dal batterio meningococco il piccolo che insieme alla mamma Roberta e al papà Gianluca abitava a Orciano di Pesaro non ha accusato nessun sintomo fino al giorno prima poi sabato sera il crollo improvviso ha cominciato ad avere la febbre ha preso la tachiperina ed è andato a dormire ma ieri stentava a svegliarsi è lì che è partita la corsa al nosocomio dove i medici hanno capito fin da subito che poteva essere stato colpito da meningite arrivati in pronto soccorso alle 5.24 Francesco è stato catalogato con codice rosso ed è stato sottoposto subito a rianimazione in base al quadro clinico allarmante è stato deciso di predisporre il trasferimento all'ospedale Salesi di Ancona ma è stato inutile il cuore di Francesco ha cessato di battere alle 7.40 vi siete attivati comunque fin da subito? subito ma sin dall'ingresso in pronto soccorso mi ha riferito il medico che era presente le condizioni erano gravissime il bambino era già in gravissimo stato con alterazione della coscienza per cui sono stati allertati i rianimatori, i pediatri anche l'elisoccorso proprio nell'ipotesi di riuscire a trasferirlo presso l'ospedale pediatrico di Ancona ma non c'è stato il tempo una tragedia che ha lasciato tutti sotto sciocche che ha fatto scattare nel giro di pochi minuti un piano di profilassi per tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con lui compresi i 20 operatori sanitari 68 bambini e 24 adulti invece sono state le persone tra familiari compagni di classe e di piscina e amici della parrocchia contattate nell'arco di 3-4 ore poi nell'aula del consiglio comunale di Orciano gli sono stati somministrati una compressa o uno sciroppo in base al peso corporeo di ciascuno fondamentale a reperire le dosi di antibiotico necessarie è stata la staffetta effettuata dai carabinieri al centro farma il deposito medicinale regionale di Iesi questa mattina invece è stata convocata una conferenza stampa trasmessa in diretta su Fano TV in cui oltre a fare il punto della situazione è stata rassicurata la popolazione infatti i responsabili hanno spiegato che si tratta di una forma molto rara di questi batteri e che non hanno una elevata contagiosità noi in questi casi chiaramente quando abbiamo dei sospetti che sono in pratica legati a patologie infettive oltre che sussistere l'obbligo di legge cerchiamo un attimo di rendere più snelle le procedure di collegamento con l'organo che è il Dipartimento di Prevenzione che noi attiviamo anche in via ipotetica per cui chiaramente nella sola ipotesi di una malattia infettiva al fine di anticipare e di trattare nel breve termine possibile eventuali contatti cerchiamo di procedere chiaramente a questo collegamento Dunque è stata attivata la sorveglianza sanitaria? Sì, dopo questa fase che è stata quella di ricostruire cercare di raggiungere quegli contatti stretti considerati a rischio da adesso in poi inizia una sorveglianza sanitaria da parte degli operatori, medici, medici di medicina generale i pediatri di libera scelta in modo che facciano attenzione su eventuali casi che possono emergere nel territorio in modo tale da segnalarcelo e avere quindi subito la possibilità di interagire con gli soggetti che sono eventualmente a rischio quindi questa è una fase che durerà per 7-10 giorni e poi dovrebbe finire qua Come è possibile prevenire? La prevenzione migliore è il vaccino attualmente noi abbiamo il vaccino che è quello per il meningococco C i meningococchi sono abbastanza diffusi come anche nei portatori sani sono però anche di diversi sierotipi cioè sono diversi tipi di meningococco nel 2014 è uscito anche il vaccino per il meningococco di tipo B quindi oggi abbiamo anche la possibilità di una gamma di possibilità di protezione attraverso la vaccinazione che è importante io per esempio a mio figlio ho già fatto la meningite C e adesso vediamo con lo sviluppo anche di questi nuovi vaccini di poter allargare la sua copertura Il dottor Cappuccini invece ha dato delle delucidazioni in merito al batterio sottolineando che l'ultimo caso di meningite fulminante nella nostra provincia risale a 13-14 anni fa quando la vittima fu una ragazza di Cagli è un batterio che vive nel rino faringe di molte persone della popolazione generale se andiamo a cercarlo probabilmente nel 20-30% della popolazione lo possiamo trovare vive come si approfitta sta lì e sta buono in condizioni particolari può virulentarsi e dare la manifestazione della malattia e può essere contagioso per quelle persone che stanno a stretto contatto per stretto contatto si intende la famiglia e eventualmente la classe attualmente i casi sono sporadici cioè sono estremamente rari c'è i casi di meningite batteriche si registrano per registrare qualcuno 4-5 a livello regionale all'anno se non è che siano molti di più tutte le altre forme di meningite possono essere causate non tanto dal meningococco quanto da altri batteri o da dei virus ma nel caso specifico di Francesco è stato fatto tutto il necessario e in tempi estremamente rapidi e veniamo alla cronaca la polizia stradale di Fano ha sventato una truffa ai danni di un rivenditore di automobili fanese si è presentato in un autosalone fanese con l'intenzione di vendere una vettura una Nissan Qashqai seminuova immatricolata a fine del 2014 per l'auto che risultava aver percorso poche centinaia di chilometri l'uomo, un 44enne di Vibo Valencia ha chiesto la cifra di 20.000 euro esibendo un documento di identità risultato poi falso ed intestato ad un'altra persona dopo la segnalazione del rivenditore insospettito i poliziotti del distaccamento di polizia stradale di Fano sono intervenuti raggiungendo al telefono la persona oggetto della sostituzione che ha confermato di trovarsi in una località diversa da Fano e di non aver mai acquistato quell'autovettura il modus operandi da lui utilizzato era semplice si procurava falsi documenti procedeva all'acquisto di un mezzo nuovo aprendo un prestito con una finanziaria e versando solo il minimo richiesto dopo essersi impossessato del veicolo nel giro di alcune settimane lo rivendeva ad un commerciante del settore disposto a versare subito l'intera somma visto il forte sconto incassando così il denaro prima che la finanziaria potesse accorgersi del raggiro una volta bloccato dagli agenti il 44enne è risultato essere già noto alle forze dell'ordine quale autore di truffe consumate nella zona di Roma per questo è stato denunciato l'autorità giudiziaria per i reati di tentata truffa possesso di documenti falsi e sostituzione di persona mentre la vettura è stata sequestrata Ancora cronaca inoltre la polizia stradale ha ritirato nel fine settimana la patente di una ragazza dell'entroterra fanese sorpresa in fano alla guida di una Volkswagen app con un tasso alcolometrico di 1,01 regato proseguito pernalmente con l'arresto fino a 6 mesi e una multa da 800 a 3.200 euro e la decurtazione di punti 10 dalla patente il tutto aumentato di un terzo per aver commesso il fatto in ore notturne Ancora cronaca sempre forze dell'ordine in azione però per motivi diversi è stato denunciato dalla polizia un sessantenne italiano per reati inerenti alle armi l'uomo deteneva armi e munizioni in località diverse da quelle indicate in denuncia e inoltre possedeva munizioni a palla di calibro non dichiarato il commissariato di Urbino aveva intensificato i controlli nelle zone di Monte Soffio uguali di Urbania ed intorni a seguito di alcune segnalazioni di residenti circa esplosioni di colpi di arma da fuoco con ogni probabilità riconducibili ad attività illegali di bracconaggio gli agenti hanno così intercettato l'uomo all'uscita di un terreno agricolo ed effettuato un controllo nella sua abitazione di Urbania dove oltre alle armi e alle munizioni è stata rinvenuta una carcassa di capriolo della quale il sessantenne non giustificava la provenienza e ora andiamo a Rio Crinaccio per l'annosa questione dei lavori una signora protesta per i lavori mal eseguiti che cosa le è accaduto? niente questa mattina sono venuta a votare la carta nei contenitori che ci sono qua e sapendo che comunque questo canale è dal 17 di dicembre che c'è fango non si riesce a passare considerando anche che ci sono degli appartamenti gente che sotto le feste di Natale sono venuti non potevano neanche accedere a fare una passeggiata e praticamente mi sono permessa di dire a quattro operai seduti sul muretto con due pale non capisco in quattro con due pale come potevano operare tutti quanti perché non stavano togliendo il fango e lì per lì mi hanno detto che era dura che ci voleva tempo io sapendo che è da una settimana che vengono tutti i giorni ho detto come mai che ancora non erano riusciti a fare niente che non era possibile mi sono permessa di avvertire l'assessore ai lavori pubblici che poveretto non so come fa a sopportare l'assessore Paolini tutte queste persone che lo circondano lui cerca di fare il suo lavoro ma purtroppo chi sta attorno a lui non lo esegue che praticamente mi sono permessa di venirmi a bussare al vetro della macchina dicendomi chi cavolo ero che cosa volevo io ho risposto che era un semplice cittadino no e da lì mi hanno mandato a fuoco e se permettete io non l'accetto poi voglio precisare che di queste quattro persone c'era una persona di colore qualcuno non mi venga a dire che sono razzista non si permetta ma mi ha mandato a fuoco quindi io questo lascio le conclusioni agli spettatori cioè alle persone di valutare in che mondo viviamo cioè abbiamo pagato per una settimana quattro persone non so quanto prendono all'ora fate il conto voi per poi oggi un'ora fa è venuta la botte a lavare il tutto tanto valeva far venire la botte e non pagare quattro persone per una settimana che gravano sul bilancio comunale hanno rattoppato anche qualche buca giusto? certo hanno rattoppato qualche buca mettendo catrame sul fango che infatti se lei ci va a pistare sopra gli viene via il catrame sotto le scarpe una sì una no una sì una no quindi con quale criterio io non sono né un geometra né un ingegnere ma penso che la logica parli da sé lei è un'alluvionata? io sono un'alluvionata e stamattina poi sono venuti dei signori del comune a fare un sopralluogo per poter risolvere il problema di questo classico canale che non riceve più acqua che arriva da tutte le parti mi sono sostenuta un'alluvionata mi si è riso in faccia e ho precisato che io sono un'alluvionata ho preso acqua e fango in casa e lo rischio tutte le volte che piove anche solo con due gocce d'acqua quindi per questo sono arrabbiata a vedere che vengono pagate delle persone che gravano sul costo il bilancio comunale e essere ignorata ed ora parliamo di missioni umanitarie in questo caso missione sanitaria dell'azienda ospedaliera Marche Nord la quale si mobilita per aiutare diverse strutture ospedaliere nel Kosovo vediamo il servizio partirà dal presidio ospedaliero Santa Croce di Fano il primo camion militare del reggimento dei carabinieri di stanza a Pristina in Kosovo carico di beni sanitari da destinare all'ospedale Simonida di Grassanica dopo l'esperienza anche in altri paesi questo invio rappresenta il primo blocco di aiuti che l'azienda ospedaliera Marche Nord porterà a sostegno di alcuni ospedali e strutture sanitarie il progetto nasce da un'idea condivisa tra Paolo Gorga brigadiere capo dei carabinieri attualmente in servizio in Kosovo inoltre il direttore dell'azienda ospedaliera Marche Nord Aldo Ricci Nicola Nardella direttore di presidio di Fano e Luca Stefanelli ufficiale in congedo dell'esercito italiano nonché coordinatore di alcuni studi odontoiatrici della provincia un percorso già di collaborazione che Marche Nord ha proprio con la cooperazione internazionale non dimentichiamoci i rapporti che noi abbiamo con la Palestina con Israele e con la Sierra Leone nella fattispecie stiamo collaborando cercando di contribuire eventualmente anche con della strumentazione che noi classifichiamo come fuori uso e grazie a questa collaborazione con i carabinieri cerchiamo chiaramente di dare il materiale che magari andrebbe dismesso questo primo invio prevede la consegna di 40.000 guanti sterili 1.500 garze sterili 1.000 garze non sterili inoltre 1.000 mascherine e del sapone per il presidio chirurgico questo invio di questo materiale rappresenta solo un primo step una prima battuta poi a questo seguirà l'invio di una parte consistente di materiali e di arredamenti sanitari che andranno appunto ad arredare a completare un ospedale che è stato ristrutturato dopo la guerra e poi avremo invece una fase che ci vedrà protagonisti come professionisti che coinvolgerà diversi professionisti diversi dentisti della zona in primavera e rappresenterà appunto la fase finale di questo progetto di questa missione umanitaria una fase finale che comprende quindi una campagna di sensibilizzazione prevenzione e azioni odontoiatriche invece mercoledì mattina salutare la partenza del mezzo militare saranno presenti i medici e autorità civili tra cui il comandante della compagnia carabinieri di Fano il capitano Alfonso Falcucci il quale consegnerà alle persone coinvolte nel progetto attestati di apprezzamento rilasciati dal reggimento di Pristina per la lodevole attività svolta Cambiamo argomento parliamo di meteorologia che cosa ci aspetta dal punto di vista del tempo nel 2015 a rivelarcelo come ogni anno le cipolle di Urbania Temperature miti a primavera estate belle parzialmente interrotta da piovaschi autunno con poche piogge e un inverno che comincerà a farsi sentire con giornate più rigide gelate e probabilmente anche con la neve come di consuetudine il 25 gennaio è arrivato l'atteso responso del barometro delle cipolle di Urbania anche quest'anno infatti Emanuela Forlini ha ripetuto la tradizione che risale al Medioevo e che è ereditato dal padre Anselmo nel 1994 l'insegnante di scuola elementare che ormai è arrivata al ventesimo anno di previsione ha ritirato ieri all'alba i famosi 12 spicchi di cipolla cosparsi con un pizzico di sale noiodato ed esposti su un tagliere nel davanzale rivolto ad oriente il rito è iniziato nella notte tra il 24 e il 25 gennaio quella in cui si dice che fosse avvenuta la conversione di San Paolo ma per un lavoro accurato non è sufficiente solo la lettura delle cipolle dopo che l'umidità ha fatto sciogliere il sale fino ma è necessario aver seguito e registrato le condizioni climatiche dei primi 24 giorni questi chiamati giorni contarecci prevedono che il 2015 sarà un anno con temperature un po' sopra le medie stagionali e con precipitazioni meno abbondanti degli anni scorsi secondo i pronostici delle cipolle per i mesi dell'anno nuovo si avranno a volte alternanze climatiche e aspetti di relativa instabilità ma ecco il risponso mese per mese gennaio il mese aperto il 2015 con temperature turimiti salvo gli ultimi giorni che segnaleranno il ritorno dell'inverno febbraio mese dai giorni freddi gelo e precipitazioni anche nevose marzo invece sarà variabile con le alternanze tipiche del mese specie nell'ultima quindicina aprile invece prevalenza di belle giornate primaverili maggio bel tempo giugno buon inizio dell'estate soltanto marginali presenze di piogge luglio variabile nell'ultima parte del mese con piovaschi ma quasi sempre bello agosso caldo e bel tempo con qualche eccesso di umidità settembre invece sarà variabile e tendente al bello ottobre modeste piogge e qualche instabilità novembre variabile specie nella prima parte del mese dicembre infine giornate serene con temperature fredde e gelate insomma dopo un 2014 in cui la previsione è stata sbagliata quest'anno si spera che il barometro di Urbania possa essere il più veritiero possibile ed ora come di consueto ogni lunedì lo sport il calcio chiudiamo con l'Alma Juventus Fano che pareggia per la terza volta consecutiva ieri pomeriggio ha pareggiato 1-1 contro il Giulianova vediamo il servizio di Sergio Catalani scendono in campo le squadre di Giulianova e Alma Juventus Fano di nuovo buon pomeriggio di nuovo buon pomeriggio tra Rubens e Fadini e Giulianova campo allentato e pioggia scesa fino a qualche minuto fa sul Fadini campo anche delle dimensioni abbastanza ridotte un clima abbastanza tranquillo qui a Giulianova ci sono pochi anche i tifosi Gian Rossi in curva pubblico valutabile intorno alle 400 unità fino a questo momento un centinaio i Panthers giunti dalla cittadina della fortuna è tutto pronto per il saluto il direttore di gara designato il signor Luigi Carella di Bari Nassi quindi mette le ali ai piedi a Gaetani la palla è buona entra in Gaetani Gaetani il cross attenzione libera Clemente occasione per Giulianova con una bella iniziativa di Nassi che ha servito Gaetani giù c'è Bianchi Bianchi prova a toccare verso lo Russo che mette al centro Sartori il tiro prima intenzione c'è il portiere falso che blocca impermeabile la difesa Granata Sivilla prova ad andare via c'è Rapparo su di lui va via Sivilla c'è Sartori che è libero a centro è Sivilla 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 il tiro e la palla che sfiora il palo occasionissima per Andrea Sivilla sentite Sartori intorno Sartori Sartori al limite perde palla con lo Russo che era liberissimo sulla sinistra Sartori e ora viene ammonito ed è giusto così Borrelli 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 va in aria rigore per il Fano rigore per il Fano rigore per il Fano parte Andrea Sivilla il tiro il gol Andrea Sivilla 1-0 torna il gol Andrea Sivilla giocatore giugliese la palla resta in aria ci prova intanto c'è attenzione il gol il gol del Giulianova il giolo una mezza incertezza di Ginestra Mariani segna Mariani per il Giulianova al minuto 44 44esimo minuto Ginestra fosse coperto coperto dai dal forse coperto dai suoi finisce qui i tifosi di Giulianova salutano questo pareggio come se fosse una vittoria finisce 1-1 al gol di Sivilla nel primo tempo al 28esimo su calcio di rigore risponde Mariani al 44esimo del secondo tempo c'è amarezza c'è tanta amarezza per il Fano considerando che fino a pochi minuti dalla fine il maceratese e il civiltanovese stavano pareggiando 2-2 al polisportivo e il Fano poteva davvero arrivare bene dopo il telegiornale trasmetteremo come sempre in integrare la partita dell'Alma Juventus Fano e poi a seguire la conferenza stampa di questa mattina sul caso della meningite bene grazie per essere stati in nostra compagnia per questa sera è tutto occhio alla notizia torna domani sera alle 20 e 30 buona serata a tutti voi